Francesco è un ragazzo che sin da giovanissimo ha avuto sempre questo spirito di servizio, questo spirito di volontariato che ha sempre messo in campo e a disposizione della comunità. Lo ha fatto nell'ambito per esempio della protezione civile, è stato sempre lì a dare una mano al nostro gruppo di protezione civile e lo ha fatto anche nel comitato festa, insomma un ragazzo davvero eccezionale da questo punto di vista e che poi ha continuato a servire oltre alla nostra comunità poi anche il paese nell'arma dei carabinieri dove purtroppo però ha perso la vita insomma in questa circostanza così drammatica. C'è silenzio a Montesano, parlano gli striscioni, una città che domani si fermerà per il lutto cittadino? Sì, domani ci sarà il lutto cittadino, domani affronteremo questo momento dell'ultimo saluto a Francesco e gli renderemo tutti gli onori che lui merita. Due vite così giovani che ci hanno lasciato, insomma fa riflettere eppure non si riesce a porre rimedio a questo fenomeno che purtroppo continua a quello delle stragi del sabato sera ma insomma occorre intervenire perché così effettivamente non si può andare avanti.